Buongiorno, grazie di essere con noi, quindi qui parliamo ovviamente di scuole per prendere la patente, quindi si avvicinano tanti giovani, grazie di essere con noi Andrea Onori. A lei volevo chiedere proprio gli effetti del consumo di droghe, abbiamo sentito sempre più allargato, specialmente i giovani che hanno queste macchinine, motorine e non soltanto, quindi gli effetti sulla guida e poi gli incidenti stradali. Su che range viaggiamo a proposito di strade? Allora, se dobbiamo analizzare i dati sulla circolazione stradale, quindi i conducenti, e quindi l'incidenza alla guida sotto queste sostanze psicoattive, si viaggia da un intervallo tra il 5 e il 15%, poi però va analizzata anche l'età. L'età di per sé, per esempio, scende come indice a coloro che hanno tra i 15, diciamo, i 24 anni, un indice di 0,7 di conducenti che si stima conducano un veicolo sotto questa alterazione psicofisica. Se però andiamo ad analizzare gli incidenti stradali, lì abbiamo un dato ancora più importante, dove nell'andare a visionare l'incidente, questo spesso nei giovani tra 0, 24 anni, perdonate, tra 15 e 24 anni, in 100 incidenti, hanno valutato oggettivamente che 1,7 giovani erano sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Quindi questa è una situazione tragica. Ci sono dei dati che certo non ci confortano. Comunque, su questo, poi torno da lei ovviamente, Onori, Dottor Ducci, dicevamo, no? Quindi anche quello che le droghe provocano al cervello, e in particolare però io vorrei capire anche, per esempio, i genitori, una famiglia, come fa a accorgersi effettivamente se il proprio figlio, il proprio ragazzo, fa utilizzo di sostanze stupefacenti? Perché spesso i genitori sono gli ultimi ad accorgersene. Quindi se possiamo magari dare delle indicazioni, se ci sono dei campanelli d'allarme, che cosa possiamo fare? Ma i danni sono soprattutto dal punto di vista del funzionamento. Quindi un ragazzo che va bene a scuola comincia ad andare male, oppure che ha amici e si isola. Fa uno sport e lo lascia. Questi sono i cambiamenti che devono rappresentare un campanello d'allarme per un'attenzione particolare all'eventuale consumo di sostanze. E dobbiamo tenere presente che adesso io mi permetto di sollevare dei dubbi sui dati che sono stati, perché c'è una larghissima sottovalutazione del fenomeno, soprattutto dal punto di vista della circolazione stradale. Alla guida, lei dice. Perché non ci sono a disposizione dei kit di rilevazione immediata attraverso per esempio un test salivare, perché se noi potessimo fare questo avremmo dei dati molto superiori riguardo agli incidenti. Ti dice un po' come l'alcol test, che ti fermano, ti fanno la prova dell'alcol, invece nelle droghe non c'è questo. Uno dei componenti del nostro gruppo, che è il questore Pignataro, sta proprio cercando di, che si occupa alla presenza del Consiglio dei Ministri, proprio di sostanze, sta proprio cercando di approfondire questo, perché in realtà è un fenomeno ancora largamente sottovalutato e sottostimato. È come se fosse l'Iceberg, l'Iceberg è sottostante. Prima, in una delle slide che abbiamo visto, si parlava di un 30% di sindrome amotivazionale. La sindrome amotivazionale è dovuta al fatto che ci sono delle vere e proprie lesioni nelle aree frontali del cervello, quelle della curiosità, della motivazione, della scoperta e anche della relazione, delle relazioni sociali. Quindi anche quando non si presentano dei fenomeni della schizofrenia, quindi delirie, allucinazioni, c'è questa perdita del funzionamento, che è molto molto grave e che, come dicevo prima, permane anche per mesi dopo la sospensione dell'uso di marijuana per le caratteristiche del THC e che deve essere immediatamente rilevata. Quindi in questo senso i genitori, ma soprattutto anche gli insegnanti, devono rappresentare uno scanner che ci permette di poter cogliere queste situazioni e intervenire in modo adeguato. Io su questo voglio dire al nostro pubblico a casa, veramente ha dato il dottor Ducci delle indicazioni molto molto chiare, spero che siano arrivate, perché il nostro messaggio vuole essere anche questo, di fare attenzione, perché non è poi una schizofrenia, ma magari è un cambiamento comportamentale del giovane e del ragazzo che ci deve far pensare, quantomeno pensare, riflettere e chiedere al proprio figlio quello che sta succedendo. Onori, su quello che diceva Ducci, per quanto riguarda appunto, noi parlavamo dell'alcol test, invece per le droghe non è così e quindi magari sono numeri molto sottostimati. Le risulta? Certamente, la stessa Istat della quale abbiamo le fonti e le statistiche ha enunciato che questa considerazione è stimata, ma non con precisione, perché non tutte le forze polizie riescono ad avere un accertamento sul posto e quindi si va soltanto ad indagare quando le fattispecie sono abbastanza gravi, ma sono dati che comunque vanno tenuti sempre molto sotto controllo. E se mi permettete, la soluzione è anche rendere questi ragazzi consapevoli, come dicete, come state dicendo con precisione, la dottoressa Lucchini, sfatare i falsi miti, questo è fondamentale. Rendere consapevoli i fanciulli del fatto che l'alterazione psicofisica rende la guida pericolosissima, perché sono deprimenti, sono stimolanti e lucinogeni che provocano una disattenzione, una mancata concentrazione di coordinazione alla guida. E poi assistiamo a tanti incidenti, purtroppo, Onori, perché poi la verità vera... Tantissimi, questa alterazione della percezione del rischio e dei pericoli, passare col rosso pensando che non si crei un pericolo. E non possa succedere mai nulla, no? Perché ci si sente invincibili, quindi c'è veramente un po' un delirio. Sì, l'alterazione del campo visivo, della percezione visiva, quindi rendere consapevoli, perché c'è un rallentamento di tempi e reazione, quel secondo che noi abbiamo nella normalità per reagire a un evento. In questo caso l'evento non viene considerato, sono potente. Ho un'alterazione della percezione della realtà, della coordinazione, la motoria, delle distanze, delle velocità, minore concentrazione. Quindi è qualcosa di veramente problematico. Andrea Onori, io la ringrazio di essere stato con noi a TG2 Italia, perché era fondamentale anche la sua presenza.